Ho sempre ammirato Icaro. Se non avesse avuto le ali, avrebbe fatto l'artista, camminando su un filo come tutti noi. Forse avrebbe percorso la mia via. Da una parte le regole, la stabilità, dall'altra la sperimentazione, l'emozione del rischio. Sotto di me, il vuoto, vasto, spaventoso, ma solo nel vuoto puoi creare una luce nuova. Grazie a tutti.